Oggi voglio parlarvi del mobbing. Il mobbing è quella situazione lavorativa sistematica, persistente, addirittura progressiva nel tempo, con cui una persona viene fatta oggetto di atti persecutori e di umiliazioni che possono comportare anche delle conseguenze molto gravi nel soggetto vittima di questa condotta, molto gravi addirittura che necessitano di cure mediche importanti, per cui stati depressivi sia a livello psicologico e anche fisico proprio di malattia. Il mobbing non è un reato in sé, non esiste nel nostro codice penale il reato di mobbing. Questo non vuol dire che le condotte di mobbing non possano costituire, integrare dei reati. Mi spiego. Il mobbing in sé è fatto da una serie di azioni che singolarmente considerate non sono reato. Proviamo a pensare il fatto di un lavoratore che viene sistematicamente escluso dalle situazioni sociali, per cui le cene o le situazioni conviviali viene isolato all'interno dell'ambiente di lavoro. Quando lui arriva o lei arriva tutti tacciono, quindi ha la netta sensazione che non venga ben accolto. Nel tempo condotte di questo genere, che singolarmente evidentemente non sono reato, non esiste un reato di chi isola un altro soggetto con cui lavora, ma nel tempo la ripetizione di questo tipo di azioni integrate da altri, anche banali dispetti. Per esempio mi viene in mente il caso di un lavoratore particolarmente freddoloso e cagionevole di salute, che ogni volta che entrava nel suo ufficio il suo collega apriva la finestra anche d'inverno. Assieme a una serie di altri comportamenti vessatori e persecutori, evidentemente ha fatto accumulare nella vittima di questo atteggiamento un malessere tale da farlo ammalare. Il mobbing può essere orizzontale o verticale. verticale se arriva dal superiore gerarchico, orizzontale se arriva dal collega. Tornando al penale, pur non essendoci un reato di mobbing, il mobbing può diventare reato in alcuni casi. Per esempio, se diventa una modalità di maltrattamento sistematico ripetuto nel tempo, attraverso umiliazioni, vessazioni importanti, si può parlare anche di maltrattamento. Il maltrattamento è previsto e punito dalla norma del 572 del codice penale, che è quello che punisce il maltrattamento in famiglia. La stessa norma prevede la possibilità di punire il maltrattamento anche nell'ambito lavorativo, laddove dovesse provenire dal superiore, dal datore di lavoro, dal superiore gerarchico, qualora avvenga in un ambito lavorativo, così si dice, parafamiliare, ovvero in un ambito lavorativo simile all'ambiente familiare, sia per la contiguità tra le parti, cioè la frequentazione, la stretta frequentazione. Evidentemente in una grande società il datore di lavoro, l'amministratore delegato, non ha rapporti con il dipendente di un determinato ufficio e quindi è difficile che si possa parlare di maltrattamento. Diverso è, per esempio, la segretaria con il proprio capo, che vivono fianco a fianco, continuativamente, con un rapporto quotidiano che dovrebbe basarsi anche sulla collaborazione e la fiducia reciproca, perché i rapporti diventano parafamiliari. Ma se questa condizione di parafamiliarità sussiste, è possibile anche che venga punito il reato di maltrattamento, venga riscontrato anche in una situazione di mobbing. Altri reati si possono verificare, per esempio si può verificare la violenza privata, laddove il mobbing si realizzi attraverso una costrizione, una violenza che non è necessario che sia una violenza fisica, ma sia una costrizione, una minaccia, una costrizione, a fare delle cose che la vittima non vorrebbe fare, che evidentemente non è obbligato a fare per il contratto lavorativo, per cui, per esempio, fare prestazioni professionali, lavorative, molto al di là di quello previsto dal contratto, con la minaccia che, se così non dovesse fare, ci sarebbero delle conseguenze sul piano lavorativo o retributivo. Questo potrebbe essere, integrare un reato di violenza privata. Nell'ambito lavorativo altri reati si possono verificare, si può verificare il reato di atti persecutori, il cosiddetto stalking, si può verificare il reato di violenza sessuale, perché non è infrequente la situazione per cui alcune persone, normalmente per lo più le donne, debbano subire approcci sessuali ripetuti da parte del superiore con la velata minaccia che, qualora non acconsentano a questa forma violenta di corteggiamento, se così lo vogliamo chiamare, le conseguenze potrebbero essere sul piano lavorativo. Per cui non fermiamoci davanti al fatto che il mobbing non è reato, poiché se da una parte è vero che non esiste una fattispecie nel nostro codice penale che si chiama reato di mobbing, è altrettanto vero che tante condotte di mobbing possono integrare il reato. Quindi il consiglio è rivolgetevi a un legale, anzi sia il legale penalista che civilista assieme possono valutare l'azione migliore a tutela del lavoratore o della lavoratrice che subisce un mobbing a tutti gli effetti. Grazie. Buona serata. Voglio affrontare stasera un argomento molto particolare che spesso capita nei rapporti di lavoro. Il lavoratore è sottoposto all'organizzazione del lavoro che determina il datore di lavoro e è tenuto a svolgere mansioni che gli vengono affidate. Il problema è cosa succede quando il datore di lavoro impone determinate mansioni che il lavoratore ritiene o che magari palesemente sono di tipo dequalificante, sono di tipo corrispondente a un livello di inquadramento assolutamente inferiore. Qui abbiamo una situazione, un caso recente, deciso recentemente, era un caso abbastanza singolare, cioè in quale veniva, in questo caso, veniva imposto al datore di lavoro dal datore di lavoro a questa lavoratrice di portare il caffè agli ospiti e questa era un'impiegata di un certo livello e diceva ma perché devo fare questa mansione. Allora qui il problema, voglio chiarire, qui non sto parlando, il mio tentativo non è mai quello di dire quello che mi piace o non mi piace, quello che è giusto o quello che è ingiusto, quello che mi piacerebbe o che non mi piacerebbe. Qui il problema è di domandarsi cosa dice la legge, qual è il comportamento che secondo la legge è da tenersi, dopodiché uno, come dire, sceglie eventualmente anche di forzare le cose. Allora qual è la decisione a quale giunge la Cassazione? La Cassazione dice una cosa molto semplice e dice io mi posso rifiutare di adeguarmi alle mansioni, di eseguire le mansioni che sono, che ritengo di tipo dequalificante solo se c'è u diverse, diciamo le mansioni diverse dal mio inquadramento, solo se c'è una totale lesione della mia situazione personale. In modo particolare, quando le mansioni al quale vengo chiamato a che mi sia stato chiesto di svolgere, comporterebbero addirittura dei livelli di rischio per il lavoratore o addirittura rischio di commettere illeciti di tipo civile o penale. Cioè in buona sostanza il lavoratore è tenuto ad adeguarsi, vuol dire che deve obbedire sempre e comunque? No, potrebbe il lavoratore se ritiene inopportuno, ingiusto l'assegnazione, rivolgersi al magistrato, eventualmente anche chiedendo un provvedimento di carattere urgente per inibire, per bloccare quel comportamento, per bloccare quell'assegnazione di mansioni. Ma può rifiutarsi solo se sospendere, cioè decidere da solo, farsi tutela da solo e quindi non fare quelle mansioni, solo se quelle mansioni potrebbero mettere in rischio la propria sicurezza o addirittura indurlo a dover commettere degli illeciti. In mancanza il lavoratore è tenuto ad eseguire ed eventualmente col legittimo diritto di poter opporsi e chiedere al giudice di dichiarare quelle mansioni non deve farle, eventualmente anche con un risarcimento per averle dovute fare. In buona sostanza, attenzione, cosa consiglio io e mi rendo conto che non è così semplice poi la situazione è che quando una persona riceve un ordine anche un ordine che ritiene ingiusto se l'ordine è di fare un reato all'esempio o di fare un illecito bisogna rifiutarsi, bisogna rifiutarsi. Se mi si dice di fare un reato un ordine di fare non ti preoccupare dice il datore rifiutarsi ma laddove non esiste e la normalità non è questa è spesso l'assegnazione a mansioni di tipo dequalificante il mio consiglio è di adeguarsi adeguarsi nel senso di ubbidire non vuol dire che si è d'accordo ma di ubbidire eventualmente lasciando un'immediata traccia scritta dicendo attenzione ritengo quelle mansioni non mi devono essere date e se le mansioni vengono confermate rivolgersi ad un avvocato a un consulente eventualmente anche davanti al giudice ma nel frattempo fare quelle mansioni svolgere quelle mansioni qualcuno in passato diceva intanto mi metto in mutua mi metto in malattia può essere un modo per tirare avanti qualche giorno ma la malattia non copre il tempo di una causa il consiglio è reagire subito al datore di lavoro con una letterina in cui si dice ritengo quelle mansioni che io non debba fare quelle mansioni ma nello stesso tempo il mio personale consiglio è di adeguarsi nel senso di farle ed eventualmente rivolgersi ad un sindacato un avvocato un consulente per impugnare davanti al magistrato perché sia il magistrato ad accertare se sono da farsi o non da farsi quelle mansioni e se sono state fatte mansioni che non dovevano essere fatte chiedere anche un risarcimento d'anni ma evitare di come si diceva una volta farsi giustizia da sé perché questo potrebbe determinare rischi e rischi anche gravi da parte del lavoratore grazie grazie a tutti grazie a tutti